buonasera a tutti il mio nome è fabio locatelli sono professore di antropologia nell'università laica e loyal faro di manta sulle coste dell'oceano pacifico in ecuador sono molto contento di partecipare a questo evento dedicato a gaetano osculati anche se la mia partecipazione è solamente virtuale e breve quindi voglio ringraziare alberto caspani per avermi invitato a partecipare nell'evento ma soprattutto per avermi invitato a riscoprire gaetano osculati io già avevo ascoltato parlare di gaetano osculati in passato soprattutto nell'ambito di una mostra realizzata nella capitale dell'ecuador chito una mostra dedicata alle scoperte scientifiche alla botanica dell'ecuador in questa mostra era presentato il libro di osculati ma solamente le immagini le famose immagini dipinte dallo stesso osculati e che hanno avuto grande fortuna in ecuador non solamente per la grande qualità delle immagini ma anche perché il testo come sappiamo fu pubblicato in italiano si diffuse in italia un testo sull'ecuador e su altri paesi dell'america latina paesi con territori amazzonici ma un testo che tiene una storia della lettura in italia infatti esiste un studio di una ricercatrice spagnola che giustamente ha studiato come si è diffuso questo testo di osculati in italia e come questo testo avrebbe influito nel diffondere termini spagnoli nell'italia della metà del secolo del secolo dell'ottocento scusate ma a volte mi confondo tra l'italiano e lo spagnolo quindi per tornare all'osculati io conoscevo già quest'opera perché in una mostra a chito ho visto questo libro e queste immagini poi con il viaggio di abberto caspani con la conversazione che abbiamo avuto nella città di manta mi sono incuriosito quindi ho deciso di leggere l'opera e l'ho letta ed è stata un'esperienza davvero molto piacevole in primo luogo in quanto all'esperienza letteraria è un l'autore scrisse con uno stile davvero gradevole è una lettura che scorre senza problemi anche se il testo ha quasi 200 anni però un italiano che davvero si legge con grande facilità e ovviamente sono professore di antropologia sono di formazione storico e quindi ho trovato nel testo di gaterno sculati fonti testimonianze di grandissimo rilievo lo che più mi chiama l'attenzione è che in questo viaggio tocca non solamente le realtà indigene perché spesso in modo stereotipato associamo america latina al mondo indigeno ma in realtà america latina è il luogo dell'incontro tra popolazioni di tutto il mondo soprattutto popolazioni europee americane e africane i gaterno sculati nel suo viaggio toccò tutte queste realtà tutte queste realtà metice si potrebbe dire in realtà non solo diverse raziamente ma in realtà che si caratterizzavano anche per la disuguaglianza sociale nelle relazioni di potere per esempio mi ricordo le descrizioni di gaterno sculati sull'esistenza di del delitto di oggi si chiamerebbe tratta di esseri umani di minori giovani indigeni che erano venduti come schiavi e che erano portati a lavorare nelle città quindi questo libro davvero è una fonte etnografica di grande valore che parla di un ecuador che già non esiste e il valore che ha quest'opera è la vita stessa di osculati l'esperienza che ebbe io mi chiedevo durante la lettura perché non fosse morto osculati perché davvero visse esperienze fortissime e durissime ma sopravvisse sopravvisse e riuscì addirittura a dipingere alcune della realtà che visse e rilasciò questo testo davvero ricchissimo nei dettagli che ti introduce nella realtà storica che lui stesso ha vissuto per concludere questo breve intervento e non posso entrare a sviluppare aspetti nella loro specificità solamente posso dire qualcosa in generale in primo luogo credo che si dovrebbe studiare la storia dell'appropriazione del testo di osculati in italia perché fu pubblicato varie volte e quindi la domanda è che influenza ebbe in italia chi lo leggeva qual era il pubblico come si leggeva perché si leggeva e poi l'altra domanda è riferita all'equador non è una domanda più che altro è una è una preoccupazione perché come ho detto prima in ecuador si conoscono soprattutto le immagini del libro dello sculati perché il libro fu pubblicato in italiano e quindi la barriera linguistica ha davvero reso difficile la lettura la circolazione del testo ma io considero che è necessario lavorare per per portare un pubblico equatoriano a leggere quel testo perché è una miniera per la storia dell'equador e anche per conoscere l'identità nazionale di questo paese che ormai è la mia patria adottiva quindi con queste parole spero di non aver annoiato ringrazio molto alberto per avermi invitato a questo evento e ringrazio il pubblico presente un evento bellissimo ho visto le foto in facebook e davvero mi dispiace non poter esserci fisicamente e quindi vi mando un bel saluto e spero possiate approfittare dell'evento voi che siete lì grazie e arrivederci